ciao ragazzi io sono falconero e credo proprio che oggi ci siamo penso che questa sia la parte finale del gioco per cui se non l'avete finito chiudete e tornateci più avanti perché sicuramente vi spoilero qualcosa se è la parte finale ve lo farò vedere tutto per cui preghiamo che vada bene al primo giro se così non fosse registrerò un'altra volta e questo video non lo vedrete mai ok la casa è in fiamme c'è il solito tipo in carrozzina e adesso vediamo ora va pietà di te e quindi morirai scorderai il sogno e ti sveglierai sotto il sole del mattino bene verrai liberato da questo orrendo sogno di cacciatore ma anche no nel senso no no perché ho fatto tutto sto casino per arrivare qua mi faccio ammazzare così bene adesso come minimo si trasforma nel mostro più brutto che l'umanità abbia mai visto addio mio ecco io lo sapevo che questo prima o poi salsava se rimane così siamo a cavallo perché è un vecchio fa anche fatica alzarsi dalla sedia per cui se si trasforma come purtroppo temo finirà malissimo se ah ecco non è proprio quel vecchiaccio inerme che pensavamo tutti o almeno io pensavo vabbè german eeeeh ah vabbè insomma un uno contro uno molto classico e io ti gonfio di botte vediamo vabbè un po' li ho levato un po' eeeh se riesco a farmela tutta così è tipo la boss fight più semplice della storia ma non so quanto funzionerà se avrà trasformazioni seeeeh boh vabbè per ora in grande scioltezza dai dai che sta andando in grande scioltezza adesso mi sa che si fa un po' più complessa è veloce eh vecchio vecchio però ancora ancora se la spigne dai calma eh calma che siamo partiti tanto bene di perderla adesso zero eh vabbè 18 fiale eh però non ti estordisci mmm niente non si estordisce più non si riesce madonna vabbè calma con molta calma con molta calma niente si accolla peggio di di della belva quella che sputava che vi ho fatto vedere giorni giorni fa niente non io non so come controbattere a questi scatti violentissimi che fa eeeh cerchiamo di di affrontarla con molta calma e a spatate normali non è che gli faccia granché calma 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 che non voglio fare la fine di snake che sembra veramente lo lo scontro finale tra 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 big boss e e snake dai 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 anzi tra the boss e e big boss una puttanata da appassionato di di metal gear c'era qualcosa che non mi tornava mentre parlavo eh dai su german sta andando fin troppo per le lunghe niente non sarà veramente lunga per cui armatevi di santa pazienza spero di non rompervi le palle perché qua prevedo una cosa abbastanza lunga e eeeh abbastanza pallosa ecco si sta per trasformare no sta semplicemente fomentato a bestia bene se vabbè eeeh che che cosa deve fare io ho paurissima che esploda infatti eeeh che non lo so vabbè dai dai che l'abbiamo siamo sopravvissuti è successo il miracolo c'ho otto fiale se lo batto è è veramente il miracolo se non lo batto è la fine perché non ho una lira per ricomprarmi le palle del sangue e riprovare per cui mi aspetterà un bel po' di farming se fallisco qui oddio dai ma perché niente non si può dire che era fatta me la sono giocata malissimo quello stordimento uno dei pochi che mi era venuto vabbè non è non è il caso di provare stordimenti qua è tiratissima è tiratissima è tiratissima niente non fa l'ultimo colpo no no ok non posso morire adesso non posso morire adesso non posso morire adesso non posso morire adesso ma perché lo liscio continuamente voglio vedere come va a finire no no mamma mia che culo dai 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 ma perché non riesco a farti a pezzi perché non vuoi morire calma 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 che l'abbiamo fatto no finisce qua non trasformarti adesso perché con due fiale del sangue mi mi violentano stai ma il vecchio cacciatore 128.000 echi non dirmi che ti trasformi per pietà per pietà oh oh cazzo bene preferivo che si trasformasse sinceramente e quindi amico o nemico mi sento molto l'uomo che incontra per la prima volta gli alieni no mi sa che non è tanto amico ma ma proprio per no non non è amico no bene eh mi ha succhiato sono ma che cazzo ma 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 perché ma perché sono in carrozzina e così la caccia ricomincia ma beh complimenti per il finale io non mi ha zaki è gran bel gioco è gran bel gioco però che cazzo di finale è cioè io ho preso il posto di german e quindi non sono delusissimo da questo finale quindi chiaramente non ho eh fatto quello che dovevo fare per sbloccare eh il boss segreto perché il boss segreto non ne ho visti dubito fosse german il boss segreto per cui beh ragazzi che che dire eh sono sono abbastanza basito non so bene che cosa dire per cui vi do appuntamento al prossimo video che sicuramente a questo punto non sarà su blood bone fatemi sapere che ne pensate del finale fatemi sapere se avete ottenuto voi un finale diverso e eh insomma chiaritemi un po' l'idea perché sono veramente preso malissimo come non mai per cui vabbè dal vostro falconere è tutto vi do appuntamento alla prossima e ci vediamo ciao ragazzi ciao 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 ciao